17 colpi di arma da fuoco contro l'Audi Q5 del sindaco di San Gregorio di Pona, centro della provincia di Vibo. A scoprire quanto era accaduto è stato il diretto interessato, Pasquale Farfaglia, che il giorno seguente si è ritrovato l'auto presa di mira da ignoti. L'episodio sarebbe avvenuto nei pressi della chiesa di Santa Ruba durante i festeggiamenti per la Madonna della Salute. I carabinieri hanno sequestrato l'auto per eseguire i dovuti accertamenti mentre proseguono le indagini, soprattutto dopo il ritrovamento di alcuni bossoli nei pressi della chiesa. Non tardano ad arrivare nel frattempo i messaggi di vicinanza delle istituzioni, dai colleghi sindaci, passando per la presidente di Anci, Calabria, Rosaria Succurro, ai consiglieri regionali che condannano fermamente ogni gesto di violenza e di intimidazione.